Io e la nonna stavamo giocando a Silent Castle. Avevamo solo 30 secondi per trovare la stanza perfetta e costruire la nostra difesa. Purtroppo quando sono andata a letto ho visto arrivare il fantasma Arnold. Ho provato e riprovato a combatterlo, ma mi ha raggiunto ed io ero tanto spaventata, ragazzi, davvero spaventata. Non penso che siate pronti per tutto questo. Silent Castle scaricato. Riuscirete a sopravvivere?